Un saluto ben ritrovati agli amici del nostro canale dedicato al grande calcio, iscrivetevi mi raccomando, attivate la campanella, iscrivetevi appunto sul logo AL. La fine del VAR. La fine del VAR è l'amaro titolo che sorge spontaneo dopo quello che è stato visto da tutti nella gara di ieri sera. Un rigore clamoroso che non viene fischiato ai danni di Bellotti su intervento di Ranocchia con tutti i moviolisti che riconoscono in maniera unanime e addetti ai lavori che riconoscono in maniera unanime che si trattava appunto di un calcio di rigore clamoroso. L'arbitro non vede, l'arbitro guida non vede e al VAR Massa non interviene. Qualcosa che, ripeto, rende il tutto inutile. Inutile che in epoca di VAR di fatto è inaccettabile. Perché se ha un obiettivo la VAR è quello di intervenire e correggere gli errori dell'arbitro. Sicuramente in presa diretta è più facile sbagliare. In presa non diretta ma indiretta non si può sbagliare se hai degli episodi che sono obiettivamente limpidi. Perché quello è un rigore per il mille per mille delle persone. Tranne uno magari Inzaki che dice però prima il piede poi la palla. Eh sì, piede poi palla significa rigore. Anche questo è indiscutibile. È la fine del VAR. È la fine del VAR che inizialmente è uno strumento utile, intelligente, ma poi è stato limitato nell'uso. Soltanto chiara occasione. E poi la chiara occasione è venuta di fatto anche meno. Sembra che a questo punto, perché guardiamo le partite sono sempre meno gli interventi del VAR, sembra che a questo punto il VAR sia ridotto soltanto a individuare il fuorigioco e giudicare i falli di mano. Neanche in tutte le situazioni visto che Udogi aveva segnato di braccio con il Milan. Capitolo a parte. Ce lo dicano. Se ci sono rotti le scatole di utilizzare il VAR, chiudiamo anche il centro di Lissone. Tra l'altro oggi sono passato davanti lì. Ironia della sorte. Ce lo dicano perché così chi ama il calcio non riesce a capire, ad accettare determinati episodi. In epoca no VAR l'arbitro non vede, sbaglia. Vabbè, a mano in cuore il tifoso Granata lo accetta. In epoca VAR non riesci ad accettarlo, non te ne puoi fare una ragione, non trovi una spiegazione e allora chiudete tutto, tirate giù la sala cinesca e aboliamo il VAR. Perché questo è il passo successivo. Ci dovranno spiegare perché non è stato utilizzato il VAR, perché non è intervenuto il VAR, ma qualsiasi spiegazione diversa da non ci hanno capito nulla, non sarà una spiegazione valida e veritiera. Un video flash per decretare di fatto la fine del VAR dopo ieri, utilizzandolo così, non ha obiettivamente il minimo senso. Scrivetevi che cosa ne pensate qui sotto, iscrivetevi numerosissimi, attivate la campanella. Non è una provocazione, è la fine del VAR. Così è la fine del VAR. Un saluto. Così è la fine del VAR.